buongiorno a tutti oggi ho un giorno libero allora ho deciso fare un po di gnocchetti per il pranzo faccio un condimento molto semplice soffrigo la cipolla e poi ci metto un po di passato di pomodoro soffrigo faccio solo con due patate per noi due basta soffrigo 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 so soffrigo so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lavo subito i piatti che così non si accumulano. Grazie a tutti. 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 a tutti.